Invito alla scrittura, quarta edizione, preziosa iniziativa della gloriosa casa editrice Carabba di Lanciano, dedicata agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di Abruzzo e Molise. In tempi di profonda trasformazione di idee e linguaggi, sempre più social, l'obiettivo quello di promuovere nei giovani il processo ideativo ed esaltare l'uso della lingua italiana nella sua espressione più pura. 72 gli elaborati presentati dai ragazzi in racconti inerenti la traccia proposta ispirata all'attualissimo tema della libertà. Essere liberi non significa solo sbarazzarsi delle proprie catene, ma vivere in un modo che rispetti e valorizzi la libertà degli altri, straordinario pensiero di Nelson Mandela. Le immagini si riferiscono alla cerimonia di premiazione presso il Teatro Fenaroli, alla presenza del presidente dell'editrice Carabba Antonino Serafini, del presidente della giuria Mario Cimini, ordinario di letteratura italiana all'Università d'Annunzio, del preside merito dell'Icio Classico di Termoli Antonio Mucciaccio e poi Nereo dell'Aventino, presidente del Rotary Club di Lanciano. L'associazione ha attribuito un premio speciale a Francesco di Castelnuovo, dello scientifico Galilei di Lanciano, autore di un racconto tra quelli presentati ritenuto più vicino agli ideali etici ed umanitari del Rotary. Primo premio alla sedicenne Maria Rosaria Biondi, sempre del Liceo Galilei. Il titolo del racconto e il suo significato? Allora, il titolo del racconto è Gli occhi di mio fratello, perché appunto inizialmente la protagonista del racconto dice che gli occhi di suo fratello sono di un colore che non ha mai visto da nessun'altra parte. Quando però emerge da sottoterra, vede il cielo e dice ok, questo è il colore degli occhi di mio fratello. Prima di allora non aveva mai visto il cielo e riconosce nel cielo suo fratello. Cosa hai voluto rappresentare? Appunto la libertà che è rappresentata dal cielo e dall'accesso alla luce non è vera libertà a meno che non sia accessibile a tutti quanti, compreso il fratello che era rimasto sottoterra.